Alla fine rispondo alla sua ultima provocazione. MES no, Eurobond sicuramente sì. Il MES è uno strumento, abbiamo ripetuto, assolutamente inadeguato. Gli Eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, una risposta efficace, adeguata all'emergenza che stiamo vivendo. Su questo io e il Ministro Gualtieri siamo pienamente d'accordo, anche se qualche volta qualche ricostruzione, qualche retroscenista mira a offrire una rappresentazione diversificata dalle nostre posizioni. Aggiungo che quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo in questa direzione, alcuni, non il Ministro Gualtieri, ma alcuni anche nel dibattito, mi hanno suggerito di non fare questa battaglia. Perché è una battaglia che appariva assolutamente futuribile, avveniristica, non realistica. La verità è che quando si difende il proprio Paese non si fanno calcoli. Io so, sono convinto, lo dico con tutta la responsabilità e la prudenza che mi contraddistingue, che la storia è con noi. E vedremo alla fine la storia quale piega prenderà. Grazie.